Il soldato è lì, è in quel bunkerino qua dove ti tiro le frecce, guarda, è qui sotto Qua dentro? Sì Dove? Come dove? È lì No Che cazzo è successo? Era lì Dov'è? Ciao Ciao Salve a tutti Che ha salutato dopo mezz'ora perché stavo laggando Ed ieri Ciao, ciao a tutti Ok, d'accordo, oggi siamo qui in queste bedwars Siamo soltanto in tre perché stiamo facendo una specie di sfida Ovvero riuscire a vincere una bedwars solo in tre e con un Finnot in squadra Se volete sapere chi è Finnot andate a iscrivervi ai canali che trovate nella descrizione Perché in un video di loro, che non mi ricordo chi stava registrando Abbiamo avuto Andate sul canale di Eren Sul canale di Eren c'era un Finnot nella nostra squadra che non faceva un cazzo Non è vero E quindi E quindi C'è anche il canale di Finnot, adesso lo metteremo Eh sì, lo lascio in descrizione perché lui è un maledetto Comunque ci vediamo in partita Ok, siamo in partita, lo stava dicendo io a quel posto mio Come si chiama questo qua? Mi ha rubato il Come si chiama? Oh, il letto Panam Panam Oh, Panam Non era Panem Era Panem o Panam? Lo stretto di Panam Era Panem Panem e salami? Ma perché io devo sentire queste cose? Grande Panam che ha già fatto il ponte Oh, Panam fortissimo Dove sta il ferro? Non è un Finnot lui, è bravo No, infatti non è un Finnot Quindi mi dispiace ma la sfida non potrà andare avanti Che poi magari nessuno sta capendo chi è questo Finnot Sta dentro, Jacopo Non so dove è letto Sta dentro Eh, insomma, uno muro Questo Finnot è praticamente un tipo strano che era nella nostra squadra per caso Che tutto faceva meno che aiutarci Cioè era il nostro Eren, mi dai una mano Eren, 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 Eren Scappa, scappa Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ah ma qui viene in poi Oh, stanno venendo a romperci il letto Stanno venendo a romperci il letto Sì, però sono andando a romperci il letto Eh Vai, passa Adesso mi dà lo stecchetto Scommettiamo No, allora Facciamo una pericolazione No, l'hai lanciata Ok, l'ho trovata No, 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 no Sì, sì, sì Non può uccidermi Ho del materiale No Sto laggando Però l'ho uccido lo stesso anche se laggo Wow Ok, perfetto Oddio, perché la mia spada è finita già? Ho dato già 12 colpi Ma che cazzo? Ah ma il ferro qua esce insieme Ragazzi ma qua escono materiali random Sì, sì C'è anche l'oro eh Sì, infatti Vabbè, il nostro è andato la Panam a uccidere Povero Panam Grande Panam Sempre buona Mai debole Mai debole Ok, ho messo due chest Nel ingresso Così abbiamo una protezione No, no, no No, no Poi mettere dentro un'altra roba All'attacco All'attacco Cesto, vedi Aspetta Arrivano i rossi Come arrivano i rossi? Non sta arrivando nessuno No, l'ho ucciso io Guarda cosa ho fatto Ho raccolto Guarda cosa ho fatto, man Tac Molto Tac Guarda Perché quel tipo si è lanciato giù? Sto facciamo una costruzione romana anticarca Ah, hanno Hanno già Oh cacchio Hanno già le Non vorrei dire eh Non vorrei metterli Sì Eh, sì Perché vedevo un arco Però non so da dove veniva E ho visto un tipo che cadeva malissimo Ciao Panam C'è Panam che sta facendo tipo Ok, quanto ora ti serviva? Scusa Preso No Povero Panam Preso Vai, ce la puoi fare? No, vado a dargli il colpo di grazia Ma chi? Fallito lui che scappa? Sì Mamma mia No Non c'era un buco e non l'avevo visto E non avevo visto il buco, maledizione Avete un buco, Charlie? Si è taggittato Così senza sento Oh, abbiamo un sacco di ferro Wow Eccoli, sono tutti rossi Ciao Ciao Sono morti? No, uno ancora sopra Stava ancora più su Vedi, guarda lì Dove? Ahia È lì Ahia Grande Panem Grande Panem Dai, bravissimo Ok, abbiamo ucciso Abbiamo No, vabbè Lo sapevo È buono come il Panem È buono come il Panem Ok, una più brutta dell'altra Dobbiamo cercare di Allora, c'è Panem che frega loro E questa cosa non mi piace Allora, io non mi sono È buono come il Panem È buono come un Panem Arrivando un blu nella nostra isola? Sì Eh, vabbè Colpisco dalle spalle Torna al tuo paese Sei diverso Vieni a rubarci i letti Oh, c'è, c'è, c'è Oh, da dove viene? Io laggo Io laggo mi ha ucciso perché laggavo Ok Sì, ma Panem si frega tutto loro Ma che è? Ma mi frecciano da distanze assurde Eh, non lasciamolo più nella cesta No, infatti Ci facciamo della cesta segreta Della cesta segreta Perché si frega tutto loro Sta andando Sta andando Eh, torno in base Sta andando anch'io Ok, vai tu, eh Dai, Panem Figa È dietro di te Dove è Panem? Dove è Panem? È lì Sì, non ce la fa Non ce la fa Ok Eh, Jaco Grande Panem L'ha buttato Ciò, Panem Jaco, io vado a prendere i blocchi Poi andiamo ad accaccare qualcuno Vieni qua Vieni qua Eh, ma io ho 3 di oro Vabbè, chi se ne frega tanto Ma tanto sa mori Non è vero Eh, dove dobbiamo andare? Io qua ho 11 di oro Li tengo Ah, stai andando verso il blu No, verso chi stai andando? Verso il blu Arriva il rosso, arriva il rosso In casa nostra? Jaco, come ci sei salito? Al centro Al centro No, mi stanno bersagliando troppo Aspetta, mi stanno bersagliando i blu e i verdi Aspetta C'è un rosso al centro C'è un rosso sotto Dove? Visto Preso Vai Jaco No, Eren, no Preso Ma che lavoro di squadra Almeno uno a testa ha dato un colpo Il lavoro di squadra, proprio Allora, io ti attaccare i blu Ma i verdi ci attaccano Oh, ma ha preso una pozione Panem qui Oh, ahia Infatti io sto tenendo da parte l'oro Perché ho paura che lo spende per cagate No, Jaco, sei morto? No, 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 quasi, quasi No, c'è il verde, c'è il verde, c'è il verde Grande Panem Grande Panem Grande Panem No, è morto, infatti Panem Ho 22 d'oro Ok, io sto per morire Mi allontano un attimo Ok Mi sono fatto l'arco P Posso fare una bella spada E se volete Frecciano tantissimo Frecciano tantissimo Frecciano tantissimo Mele o P Mele No, non si può Due mele d'oro E faccio delle pozioni di forza Ragazzi, state controllando un attimo Il resto della mappa Sta Eren Sta Eren da noi Siamo dai verdi? Sì Noi ci siamo già Secondo me ci distruggono il letto Ucciso uno Jaco, io sto entrando No, cazzo, non le chest Aiaiaia Cazzarola Vai Jaco, vai Resisti un attimo Resisti un attimo, Jaco Aiuto, aiuto Sponkill No, mi ha buttato giù Con quale knockback Continua, Jaco, continua Continua, Jaco Mi ha buttato giù con un knockback assurdo, ragazzi Sono da noi Sono in base Sì Sono in base da noi Sono in base da noi Dovete tornare Sì, stanno tornando Tanto i verdi sono morti No, no, è entrato 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 C'è, ma c'è Spaccato il letto C'è spaccato il letto? Sta entrando Ehi ragazzi Non lo posso prendere Perché no? Panem dov'è? Non so Devo farmi Un piccone al volo ma Eh, noi non possiamo tornare Eh, ma è morto anche lui Quindi adesso posso passare anch'io Ma ha rotto Ha spaccato il letto È entrato dentro È entrato dentro No, è dentro È dentro Eh, non puoi ucciderlo Eh, no Eh, si è chiuso dietro Si è chiuso dietro con le ceste È finita No, si è chiuso ancora con le ceste Vai, vai, vai Figlio di puttana Mamma mia Vai, uccidetelo Uccidetelo Sì Figlio di puttana Sì Grandi, grandi Rimettete Io ho tre cesti Io ho tre cesti Guarda sotto Guarda sotto cosa stanno facendo Eh, non Aspetta, ora guardo Fanno il ponte da sotto Sotto terra Aspetta, aspetta In che senso sotto terra Stanno facendo il ponte da sotto terra Dai, ma che razza di Dove? No, vabbè Dai, guardali Ma come fanno? Sì, vabbè Ma sono stupidi Nella base dei rossi Chi c'è, scusa? Non c'è nessuno dei rossi, quindi? No Iaco, attento Iaco, attento Tu hai l'arco OP se non sbaglio Effettivamente Eh, no, ma anche i blu Hanno visto che stanno facendo quella cosa lì, capito? Eh, anche i blu li hanno targettati Eh, ma a parte Non serve a niente Cioè, perché loro tanto dovranno salire, no? Perché non possono spaccare i blocchi Noi li vediamo e li uccidiamo Quindi quello che stanno facendo Non serve assolutamente a niente Wow Di chi? Di chi? E dei rossi? Fantastico Il rosso si è appena buttato Che idiota Per buttare me si è buttato lui Dimenticandosi che gli si è appena lotto il letto Io sono le blu, io sono le blu, ragazzi Eh, io sono morta adesso, cavolo Aspetto un attimo Adesso arrivo Allora, io ho l'armatura maxata Il piccone maxato E ho un sacco di cibo Quindi dovremmo farcela Spero Bastardo, figlio di... Sei morto? No, quasi Però sono quasi intratto nella loro base Ok, io sono qua Sono qua, sono qua Cioè, ho tutto maxato Oh, tieni d'occhio la base, man Ucciso, ucciso, ucciso Grande Mamma mia Mamma mia Ok Mamma mia Blu e dei rossi Blu e dei rossi Ok, loro adesso Se ne staranno rintanati a difendere la loro base No, stanno andando al centro Arriva, arriva un blu Arriva un blu Arriva un blu Ma tanto è senza niente Stanno andando da noi Stanno andando da noi Eh, vabbè Sì, sì, contaci, amico Ma non c'è la pasta Senza niente Come ci arriva Ho trovato l'altro blu Preso Grande Grande Non c'è neanche arrivato No, infatti C'ero lì che volevo colpirlo Ma l'hai ucciso tu prima di me Allora I rossi sono due Manca un blu No, il blu l'hai visto Voi andate Voi andate a uccidere i rossi Eh, io non ho il blu Ma il blu Il blu è nella base rossa, no? No, no Il blu è qua sotto Ah, ok Manca Manca un rosso? No Sì Manca un rosso Ok ragazzi Vi spiego velocemente Quello che è successo dopo Perché Ci abbiamo messo così Tanto tempo A finire questa partita Che probabilmente Youtube Non accetterebbe nemmeno Un video così lungo La storia è semplice Abbiamo scoperto Che mancava solo un rosso Ci bastava ucciderlo Per vincere, no? Tanto lui non poteva uccidere Non poteva vincere Contro di noi Eravamo tre contro uno L'abbiamo trovato Si era rintanato In quei ponti Che avete visto prima Là sotto Si era fatto un piccolo buchetto Noi siamo scesi Siamo andati a stanarlo L'avevamo praticamente accerchiato Lui non poteva scappare A un certo punto Scompare E ricompare Nella sua isola Non si sa come A inizio abbiamo pensato Non lo so Un lag Si è Eren ha detto Si è buttato giù Ma non poteva essere Perché buttato giù Sarebbe morto definitivamente Non avendo il letto Si teletrasporta Nella nostra isola A parte che One shotta Ok Ci uccide in un attimo Perché one shotta Si teletrasporta Nella nostra isola Spacca la mappa Che nelle bad wars Non è possibile Non è possibile Spaccare la mappa Lui riesce a spaccare la mappa Entrare di lato Ci distrugge il letto E vince Quindi ragazzi Abbiamo perso Per poco Contro un cheater Avevamo praticamente vinto Quindi questa partita Non può considerarsi persa Va bene ragazzi Spero che questa partita Vi sia piaciuta Avevamo quasi vinto Avremmo anzi vinto Se non fosse stato Per il cheater Però Vabbè dai Possono capitare queste cose Purtroppo nei giochi Ragazzi mi raccomando Non citate mai Perché non è giusto Non è divertente Citare Che schifo proprio Infatti Uno schifo assurdo Chi citta E perché non sa giocare Comunque Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate tanti mi piace Tanti commenti Iscriviti al canale Tornatevi Iscriviti al canale Ciao Ciao Ciao